... Ruba l'auto da una ditta di marmo, ci fa un giro e la riporta, arrestato dai carabinieri di Fossola, ladro recidivo. Sopraluogo al ponte di Avenza, fratelli d'Italia in regione, per chiedere che i lavori vengano posticipati. Tagli agli organici della scuola, oggi la manifestazione a massa per gridare disappunto. Suolo pubblico gratis per attività, da confartigianato l'appello ai sindaci a prendere d'esempio Carrara. Tavoli territoriali per la fase 2, CNFA, Afra, proposte per la burocrazia, l'igiene e il credito per le aziende. Nuova ordinanza regionale, le linee guida di Rossi su spiagge libere e centri estivi. A tutti buonasera, ben tornati al nostro appuntamento con l'informazione. Lo avete sentito dai titoli, il nostro telegiornale si apre con la cronaca che ci racconta di un ladro che ruba l'auto da una ditta di marmo, ci fa un giro, la riporta. Arrestato recidivo, l'ultimo furto è costato caro ad un pregiudicato quarantenne originario del Marocco che ha rubato il veicolo aziendale e poi incredibilmente lo ha riportato indietro. Per colpa del ripensamento, il ladro è stato scoperto da una pattuglia dei carabinieri che lo ha preso con le mani nel sacco. I dettagli da Margherita Badiali. Ha arrestato per furto un quarantenne originario del Marocco che ha sottratto dal piazzale di un capannone di una rinomata ditta di marmo un veicolo, ci ha fatto un giro e poi l'ha riportato indietro, forse per un ripensamento. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della stazione di Fossola che giovedì notte, mentre stavano pattugliando le zone della città più esposte a rischio furti, hanno riconosciuto un pregiudicato che stava armeggiando vicino al cancello di una ditta che opera nel settore lapideo. Visibilmente colto di sorpresa dall'arrivo della pattuglia, lo straniero è andato in agitazione, ha cercato maldestramente di disfarsi di una catena e di un cacciavite. Di conseguenza i carabinieri che lo conoscevano per essere un abitué dei furti di ogni tipo, con un curriculum criminale di tutto rispetto, hanno voluto vederci chiaro e hanno cominciato a dispezionare attentamente il cancello della ditta. A quel punto è emerso chiaramente che l'uomo, prima di essere pizzicato dai militari dell'arma, era riuscito a manomettere la catena del cancello e poi con un cacciavite si era introdotto nei locali della ditta alla ricerca di qualcosa da rubare, rimediando solo una bottiglia di spumante trovata dentro un frigorifero. Concluso il sopralluogo, per i carabinieri la vicenda sembrava finita lì, ma prima di portare il ladruncolo in caserma, i militari hanno deciso di dare un'occhiata ai filmati della videosorveglianza per ricostruire tutte le fasi del furto. Alla fine quelle immagini hanno rivelato un inaspettato colpo di scena, infatti l'occhio delle telecamere ha ripreso il quarantenne che dopo aver girovagato il lungo e il largo all'interno della ditta si è messo alla guida di un'auto aziendale lasciata parcheggiata nel piazzale con le chiavi inserite e poi è comodamente uscito dallo stesso cancello da dove era entrato. Tuttavia non si è trattato di un classico furto d'auto, infatti dopo circa mezz'ora il ladro è tornato indietro e come se nulla fosse ha parcheggiato l'auto esattamente nello stesso punto dove l'aveva presa, preoccupandosi anche di richiudere il cancello con la catena che lui stesso aveva manomesso precedentemente. L'uomo ha negato tutto ed è rimasto in silenzio anche quando i carabinieri lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso due telefoni cellulari che poi sono risultati rubati insieme a pochi spiccioli che aveva preso dal portaoggetti dell'autovettura aziendale inoltre aveva con sé anche una dose di cocaina come se non bastasse i militari dell'arma hanno scoperto anche il covo dove lo straniero si era rifugiato la proprietaria dello stabile, convocata per una verifica dello stato dei luoghi ha denunciato anche la sparizione di tre televisori e di una scultura bronza che non ha più trovato al suo posto L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per il furto all'interno della ditta di Marmi inoltre è stato anche denunciato per occupazione abusiva ed immobile L'uomo adesso si trova in carcere a massa Con l'abbassamento del numero dei contagi da Covid-19 e il rialzo delle guarigioni i bollettini dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest avranno cadenza settimanale Nel bollettino di oggi infatti non ci sono ulteriori notizie rilevanti ne saranno fornite di nuove soltanto il prossimo venerdì Sopralluogo al ponte di Avenza di Fratelli d'Italia presente questa mattina il consigliere regionale Paolo Marcheschi che ha dichiarato che si farà portavoce in Regione per posticipare i lavori e intanto intervenire per non arrecare danni ai commercianti Sopralluogo al ponte di Avenza da parte di Fratelli d'Italia con il consigliere regionale Paolo Marcheschi che chiede a gran voce che i lavori slittino almeno a settembre dice e farli finire celermente a novembre per dare respiro alle imprese che sono state chiuse per circa tre mesi di lockdown Ieri il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale ha spiegato che ha raccolto i pareri di abitanti e categorie che hanno invece dato risposta favorevole all'inizio dei lavori nell'immediato perché il rischio di pioggia ad ottobre nel bel mezzo dei lavori potrebbe portare a slittamenti imprevisti e Carrara non può permetterse lo ha dichiarato il primo cittadino ma Fratelli d'Italia le dichiarazioni del sindaco sembra non bastino Incomprensibilmente si cerca di andare avanti con dei lavori che sono stati programmati in modo giusto perché ovviamente è una delle opere che bisogna sicuramente ripristinare per evitare i nuovi alluvioni ma che la giunta regionale e anche il sindaco non considerino questi tre mesi di stop che non sono stati solo stop ai lavori pubblici che a nostro parere da sempre avrebbero potuto andare avanti non si capisce perché il Presidente Conte con il governo giallorosso abbiano chiuso tutti gli ateco ad esempio alcune opere pubbliche avrebbero potuto tranquillamente essere state effettuate in questi tre mesi non saremo qui a discutere di una apertura di lavori in un momento in cui il commercio della zona ha assoluto bisogno di ripartire non di stare fermo per altri mesi quindi noi crediamo che questi lavori debbano essere fatti ma non sia questo il momento opportuno per aprirli il problema di non comprendere che c'è stato un lockdown e che la zona non può essere chiusa per tanti mesi come se non ci fosse stato il lockdown è un'idea di una iniziativa politica di un'insensibilità enorme che l'economia della zona non si può consentire quindi chiediamo alla politica in base ovviamente alle nuove diciamo prerogative esigenze della zona di prendere conoscenza che quel progetto non può essere solo spostato ma deve essere adeguato alle nuove esigenze inoltre il consigliere regionale ha detto che si farà portavoce con l'assessore regionale Ceccarelli per presentare un atto in consiglio per fare proposte operative e alternative all'abbattimento del ponte di Avenza di Carrara previsto tra poco una di queste è posticipare qualora possibile afferma ancora i lavori anche a gennaio-febbraio e nel frattempo compiere opere di ripulitura del letto del fiume per evitare che le piene provochino lagamenti invece dell'abbattimento e ricostruzione del ponte si potrebbe operare l'abbassamento dell'alveo del fiume che non comporterebbe un'interruzione della circolazione e non arrecherebbe danni al tessuto commerciale produttivo di Avenza tale progetto è già stato attuato con risultati positivi a Carrara in zona Conad visto poi che i lavori sono stati appaltati e non si può tornare indietro la regione potrebbe mettere fondi aggiuntivi per l'avvio dei lavori a settembre e la conclusione dei lavori dopo tre mesi e non dopo i sei previsti lavori che ovviamente costerebbero di più ma sarebbero coperti da misure aggiuntive oggi sono forti le necessità economiche ed esistenziali di Avenza conclude la politica deve e può scegliere perché l'emergenza covid ha fatto saltare ogni tipo di programmazione anche oggi torniamo a parlare del lago di Porta ed è sempre il movimento 5 Stelle di Montignoso a chiedere spiegazioni in merito ieri è uscita la notizia che il comune ha rilevato dei danneggiamenti ad una paratia del lago dichiarando che questi risalgono a febbraio ma che adesso deve essere la regione ad occuparsene il comune di Montignoso interviene sul tema solo dopo che ci sono stati interventi e segnalazioni dirette da parte di associazioni ambientaliste del consigliere Lenzetti e di alcuni cittadini tutto questo è veramente inconcepibile e grave dicono i grillini le parole dell'assessore Poggi ci allarmano quando afferma che aspettiamo di sapere chi e con quali modalità si potrà intervenire il lago rischia di morire occorrono interventi urgenti il consigliere Lenzetti si è già attivato in tutte le sedi regionali e parlamentari per riportare la situazione ad una normalità il lago di Porta non si tocca concludono e se qualcuno ha appetiti su quest'area umida vada a soddisfarli altrove quasi 200 persone a massa in piazza Berlinguer distanziate e in sicurezza per gridare disappunto sui tagli agli organici della scuola problematiche relative al futuro delle classi e della didattica a distanza spesso non per tutti accessibile per noi alla manifestazione si è recata Rossella Barattini per raccogliere testimonianze di genitori ma anche di alunni e insegnanti 200 persone tra studenti, docenti e genitori scesi in piazza per denunciare un sistema scolastico pieno di problemi primi tra tutti la didattica a distanza che ha creato non pochi disagi tra insegnanti e studenti come ho anche detto nell'intervento c'è un meccanismo di alienazione perché gli studenti sono dipendenti dai professori però ne sono scissi allo stesso modo il professore, il docente anche delle scuole medie e delle scuole elementari sono dipendenti da quello che riescono a imprimere allo studente però ne sono scissi questo non è salutare per la scuola e l'ho visto nella mia realtà l'ho visto nella realtà di mio fratello che fa l'esame di terza media quest'anno ma l'ho visto anche nelle realtà delle province della Toscana perché io oltre a essere parte di MGS sono anche vicepresidente della consulta degli studenti e davvero critica la situazione per esempio la mia scuola si è ritrovata a continuare col programma e a dare tutti i voti soltanto dopo che la Zolina ha detto che ci volevano per forza mentre altre scuole hanno istituito quasi un metodo per dare voti che sinceramente non è credibile perché uno non può fare una verifica a crocette dal computer di casa e poi che magari può essere funzionante ma è totalmente nazionale non è così che deve funzionare il sistema scolastico italiano poi ci sono un sacco di studenti che non hanno la possibilità di accedere alla didattica a distanza c'è una struttura una struttura edilizia che non è fatta per sostenere questa mole di dati anche le professoresse non ce la fanno questo nuovo metodo didattico intrapreso per emergenza non è stato per tutti accessibile allo stesso modo le difficoltà maggiori le hanno avute gli studenti più fragili con disturbi dell'apprendimento e disabilità questi ragazzi sono abituati ad essere seguiti dai docenti insieme ai loro compagni e a una didattica personalizzata sia che ci sia un progetto educativo individualizzato o personalizzato non voglio entrare nel dettaglio tecnico è chiaro che questi bambini o questi ragazzi hanno necessità del contatto come d'altra parte i cosiddetti normodotati perché si apprende in base all'insegnamento che non è soltanto un principio pedagogico ma naturale è la persona che trasmette diciamo rendendo flessibile il modo di esprimersi perché si ha recepito meglio il messaggio il contenuto da parte dei ragazzi affrontate anche le tematiche dei tagli all'organico e le possibili ripercussioni sul nuovo anno scolastico non voglio pensarlo che vengano fatti questi tagli perché sarebbe ridurre a zero ed anche a valori al di sotto dello zero il processo di apprendimento da parte di tutti gli alunni perché in questa situazione dove mancano gli spazi dove c'è da offrire istruzione in piena sicurezza occorrono dei potenziamenti degli organici se non vengono potenziati gli organici non si va da nessuna parte non c'è assolutamente un futuro per l'istruzione per l'educazione non c'è un futuro per il nostro paese e nello specifico per Massa Carrato Ristoratori e locali pubblici aprono la nuova sfida ma i comuni diano una mano come ha fatto Carrara la direzione della Confartigianato Apoana plaude soddisfatta per le misure attuate dall'amministrazione De Pasquale sull'utilizzo del suolo pubblico gratuito anche in aree non adiacenti le attività da bar e ristoranti fino a gelaterie e pasticcerie tutti i locali pubblici stanno piano piano riaprendo le porte clienti si affacciano dopo due mesi di stop su un mondo completamente diverso dove dovranno conquistare nuovi spazi almeno nei mesi più caldi per sopperire tagli di tavoli e posti a sedere imposti dalle regole contro la diffusione di Covid-19 una missione che richiede un aiuto concreto economico e logistico da parte dei comuni ed è a loro ai sindaci e alle amministrazioni locali che oggi rivolgiamo un appello come associazione di categoria la direzione di Confartigianato raccoglie così paure e speranze dei ristoratori apuani che in queste ore stanno cercando di affrontare una ripresa difficile e complicata da cui dipenderà il futuro di tantissime piccole attività già messe in ginocchio da tante settimane di lockdown la situazione è estremamente critica prosegue Confartigianato i clienti stanno tornando a comprare ma è inutile negare che i flussi non sono gli stessi dei giorni e hanno preceduto la pandemia molti piccoli imprenditori si trovano sovraesposti sotto il profilo finanziario e rischiano il tracollo perché non sono neppure riusciti ad accedere alle misure di sostegno previste dal governo ed è qui che l'aiuto dei comuni diventa essenziale misure immediate reali che garantiscano tagli fiscali e agevolazioni per ampliare all'esterno gli spazi di servizio a costo zero accogliamo con grande favore anche a nome dei ristoratori la decisione dell'amministrazione comunale carrarese di consentire ai pubblici esercizi di utilizzare il suolo pubblico anche in aree non adiacenti alla propria attività questa determinazione si va ad aggiungere a quanto stabilito dal decreto legge 34 del corrente mese che esonera tali attività dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dal primo maggio al 31 dicembre basterà quindi presentare una richiesta in modalità semplificata al comune per andare a occupare parte del suolo pubblico con ombrelloni sedie e tavoli non potranno essere svolte attività di intrattenimento di qualsiasi genere salva espressa autorizzazione e i titolari della concessione dovranno provvedere a propria cura e spese alla pulizia quotidiana dell'area concessa e di quella immediatamente circostante è quindi una decisione di buonsenso e rappresenta un'occasione da non perdere per iniziare un percorso di rilancio del commercio cittadino un settore economico fondamentale fulcro della vita sociale di una città misure che la direzione di confartigianato sia ospica siano prese in tempi rapidi anche da tutte le altre amministrazioni della provincia per cercare di salvare un'importante fetta dell'economia puana nella fase 2 burocrazia igiene credito a Massa Carrara CNA propone dei tavoli di crisi territoriali sentiamo i particolari l'emergenza sanitaria sia un'opportunità per tagliare e digitalizzare la burocrazia facilitare l'accesso al credito e rendere più efficaci e meno pesanti le misure igienico-sanitarie anticontagio all'interno della filiera della ristorazione del settore agroalimentare CNA propone l'attivazione di tavoli tematici veri e propri tavoli di crisi formati da Camera di Commercio Regione Comuni Organi di Controllo Associazioni Datoriali Sindacati dei Lavoratori all'interno dei quali tutte le parti si confronteranno per affrontare tutti gli aspetti inerenti le future modalità lavorative delle imprese e di intervenire dunque su quelle che sono leve fondamentali e quotidiane per le imprese per quelle che sono le competenze dei territori partiamo dal nostro territorio analizza Andrea Borghini presidente CNA agroalimentare e partiamo dalle cose che sappiamo non andare bene e che possono essere migliorate non ci sarà più un momento perfetto per forzare il sistema e pretendere meno burocrazia più facilità nell'accedere ai finanziamenti e linee guida giuste ma non invalidanti sul fronte genico-sanitario l'emergenza sanitaria che oggi è critica economica ha palesato tutti i limiti del nostro sistema togliere la burocrazia oggi è come dare contributi alle imprese perché sono minor costi serve un piano coordinato per aiutare le imprese nel post-covid in provincia di Massacarrara sono circa 2000 le attività nel settore alimenti e bevande tra ristoranti circa 1000 le menze catering 28 bar quasi 800 e gelaterie e pasticcerie 116 la partenza è molto lenta analizza Borghini per tutta la filiera alcuni settori sono ripartiti per altri invece le limitazioni sono così eccessive che sono arrendevoli siamo molto arrabbiati con un sistema che ha dimostrato in questo contesto una grande lentezza nelle reazioni pensiamo solo alle casse integrazioni o alle linee guida partorite da una task force per esempio o a tutti gli aspetti connessi con la normativa igienico-sanitaria e costi che hanno dovuto sopportare le imprese per aprire pensiamo al blef del click day di Invitalia sui contributi per la sicurezza dal governo lo abbiamo capito ci possiamo aspettare poco ma dagli attori del territorio partendo dai comuni dobbiamo aspettarci di più concludono perché è questo il momento di rivedere le regole del gioco su burocrazia e rapporti con gli enti locali credito ed igiene destinare le risorse economiche derivanti dalla tassa di soggiorno per garantire sorveglianza e controllo delle spiagge libere e comunali questa è la proposta dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Luana Mencarelli e Paolo Menchini di Massa formulata con una mozione di indirizzo che ieri sera in Consiglio Comunale è stata respinta dalla maggioranza persiani dal PD e da Alternativa Civica a nostro avviso è stata una mancata lungimiranza dell'attuale amministrazione non accogliere proposte volte a migliorare la nostra offerta turistica commentano i grillini abolire la tassa di soggiorno come è stato fatto ieri sera non migliorerà la nostra attività i circa 400 mila euro che mediamente si incassavano ogni stagione con questa tassa potevano essere impiegati in parte per assumere personale che regolasse l'accesso alle spiagge libere concludono garantendone la fruizione nel rispetto delle norme anticontagio ottimizzando nel servizio di sorveglianza allo slogan di spiagge libere sicure a marina di massa e proprio sulle spiagge libere ma anche sui centri estivi la regione fissa le regole e Rossi firma una nuova ordinanza le linee guida sono state il frutto anche di un confronto con l'associazione dei comuni toscani seguiamo insieme quali sono centri estivi al via dal 15 giugno fissate procedure e linee guida e regole valide in questo caso da subito anche per le spiagge libere che con le temperature che iniziano ad alzarsi saranno nelle prossime settimane probabilmente sempre più frequentate il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza anti-covid per svolgere tutte queste attività limitando al massimo i rischi di contagio le misure sono frutto di incontri che si sono susseguiti in questi giorni tra la giunta e responsabili degli uffici regionali e Anci Toscana l'associazione dei comuni si torna al mare quindi ecco che cosa sarà permesso sulle spiagge la regione aveva già definito nei giorni scorsi le linee guida per gli stabilimenti balneari e quelle per le aree non attrezzate non sono molto diverse dovrà essere rispettata la distanza sempre di un metro tra le persone eccetto che per i conviventi ma si continua a raccomandare almeno un metro e ottanta la mascherina che si potrà non indossare stese in spiaggia dovrà essere a portata di mano laddove si presentassero situazioni in cui fosse impossibile stare ad almeno un metro tra un ombrellone e l'altro piantato in terra o qualsiasi altro sistema di ombreggio ci dovranno essere minimo 4 metri e un metro e mezzo tra lettini sedie e sdrai non si potrà giocare a pallone né essere impegnati in altre attività ludiche e sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti nessun problema invece per racchettoni surf windsurf kitesurf e tutti gli sport individuali per evitare assembramenti e aiutare il distanziamento tra le persone i comuni potranno a loro volta fissare ulteriori regole per l'accesso in spiaggia per i centri estivi per i bambini con più di 3 anni e per adolescenti le linee guida di riferimento rimangono quelle nazionali definite con il decreto del presidente del consiglio del 17 maggio la regione che già ai primi del mese aveva destinato 2 milioni di euro ai comuni per la loro progettazione ha definito adesso la procedura per autorizzare centri estivi l'avvio delle attività dovrà essere comunicata all'amministrazione comunale attraverso la piattaforma SWAP le attività dovranno essere organizzate in piccoli gruppi garantendo la distanza di almeno un metro e l'invito a privilegiare le aree all'aperto con presenza di zone ombreggiate se fossero previsti pasti posate e bicchieri non potranno essere condivisi gel o acqua e sapone non dovranno mai mancare se possibile i percorsi di ingresso e di uscita dovranno essere separati a rispetto delle regole sono naturalmente tenuti anche i comuni laddove organizzino direttamente i centri estivi qualche istante di pubblicità poi torniamo in studio hai un'attività e durante il lockdown attivato il servizio domicilio abbiamo una notizia per te Antenna 3 ha creato una piattaforma gratuita per mettere in contatto le aziende della provincia che hanno attivato un servizio delivery e la cittadinanza registrati gratuitamente sul sito coseacasa.antenna3.tv e inizia a far conoscere i tuoi servizi per informazioni chiama il 348 910 8257 cose a casa di quel che c'è non manca niente MB Garden è l'emozione di vivere la natura la progettazione fotografica dei vostri spazi verdi dal parco con piante olivi secolari al piccolo giardino MB Garden è la serra un trionfo di fioriture primaverili piantine da orto aromatiche piante da frutta vasi terricci un'offerta selezionata completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi MB Garden via Aurelia Ovest 295 a massa dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde con sopralluoghi e preventivi gratuiti offerte e news su facebook amore ci sono mille cose da fare prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet piante da sistemare muri da tinteggiare la parabola da montare già fatto e come noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo resta solo la festa fatto anche questo ora manca solo zia Pina l'hanno già noleggiata tutti possono rivolgersi a Italnolo a Todd a a a a a a a Contribuisci anche tu a migliorare la tua città Qual è la tv locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno Antenna 3 è la televisione di casa tua Chi altro? Prosegue senza sosta l'impegno del Consorzio 1 Toscana Nord Per gli impianti di irrigazione della Lunigiana Oggi uomini e mezzi dell'ente consortile Sono intervenuti nell'impianto Piana di Filattiera Per riparare una rottura Il pronto intervento ha garantito il ripristino Della distribuzione dell'acqua già in giornata Ieri il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale Ha firmato un'ordinanza che consente l'utilizzo A titolo gratuito delle aree verdi del territorio comunale Per la pratica di attività sportive all'aperto Con il provvedimento si incentivano associazioni e società A utilizzare parchi e pinete per gli allenamenti Dove il rispetto delle misure di sicurezza anti-covid È sicuramente più agevole Il provvedimento dispone la concessione per l'utilizzo gratuito Come dicevamo, di parchi e aree verdi A favore delle società sportive fino al 31 ottobre prossimo Le domande dovranno essere inviate all'ufficio Sport L'indirizzo email è sport-comune.carrara.ms.it Che provvederà alla valutazione della proposta Adesso ci sono i vostri auguri Adesso ci sono i vostri auguri Questa mattina sono stati collocati primi rifugi artificiali Per uccelli acquatici lungo il corso del torrente Carione a Carrara Parte del noto fiume della Costa Puana La nuova sperimentazione pro-ambiente dell'ente di Bonifica La realizzazione di cestoni artificiali Che servono da riparo per le nidiate di Germano Reale Fungeranno come riparo per adulti e pulcini La sperimentazione inizia dal torrente Carione a Carrara E se darà i risultati attesi verrà estesa anche in altri corsi d'acqua Per favorire la permanenza degli animali I rifugi artificiali per Germano Reale sono dei cunicoli immobili Completamente rivestiti della tipica vegetazione Che cresce lungo le sponde e si integrano perfettamente nel paesaggio Sono stati realizzati imitando le caratteristiche degli ambienti Che questa specie ricerca in natura per ripararsi e riposare I rifugi sono stati ancorati al terreno con dei semplici picchetti E non costituiscono ostacolo al deflusso dell'acqua Perché posizionati al lato dell'alveo del torrente Cambio di calendario per il servizio raccolta rifiuti a Cinquale A partire dal primo giugno e fino al prossimo 15 settembre Il ritiro dell'organico verrà effettuato quotidianamente per l'intera settimana Invece carta, cartone, tetrapac e vetro Nei giorni di martedì, giovedì e sabato Mentre il multimateriale e il RUR Ovvero quello non riciclabile Il lunedì, mercoledì e venerdì Il servizio inizierà dalle 7 la mattina fino alle 13 Come sempre, per il ritiro è necessario esporre i sacchi e i contenitori Prima delle 7 Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il numero verde 800-942540 Martedì 2 giugno invece, in occasione della Festa della Repubblica Il centro di raccolta Piedimonte di Montignoso rimarrà chiuso Riapre mercoledì 3 giugno il call center della libera professione Per l'azienda USL Toscana Nord-Ovest Al quale i cittadini potranno rivolgersi Per prenotare le prestazioni disponibili a partire dal 15 giugno Questo è il numero di telefono 0585 49 37 00 La scuola non si ferma E neppure l'asilo Giovanna Filippi Bisciotti di Pontremoli L'asilo nido è riuscito a far incontrare i piccoli protagonisti di questa realtà Attraverso lo schermo Grande soddisfazione e orgoglio pertanto Per aver voluto e potuto realizzare le tecnologie Per avvicinare i piccoli anche se a distanza Un grande taguardo ottenuto anche grazie al finanziamento POR FSE 2014-2020 Adesso ci sono le previsioni del tempo A tra poco Il meteo è presentato da Brico Center Massa Il tuo vicino di Faglia Previsioni per domenica 31 maggio Tempo variabile, temperature stazionarie Venti moderati e mare poco mosso Lunedì 1 giugno Cielo sereno, temperature in aumento Venti deboli e mare quasi calmo Tendenza nei giorni successivi Tempo stabile e soleggiato Temperature in aumento Venti moderati e mare poco mosso Per ulteriori informazioni Visitate il sito www.meteoapuane.it Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa Il tuo vicino di fare Via Marina Vecchia 5 Ti aspettiamo Vi saluto Siamo al termine del nostro telegiornale Vi auguro naturalmente una buona serata Una buona domenica E vi do l'appuntamento alla prossima settimana Con altre notizie del nostro telegiornale Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti